Qui a Coverciano continuiamo ad incontrare gli arbitri che durante la stagione sportiva 2022-2023 hanno debuttato in Serie A. Oggi siamo insieme a Daniele Perenzoni, sezione di Rovereto, 34 anni, in AIA dal 2010, che ha esordito nel massimo campionato nazionale lo scorso 9 ottobre nella partita Monza-Spezia. Allora Daniele, intanto raccontaci un po' cosa ha rappresentato per te questo traguardo. Guarda, sicuramente è stato il coronamento di tutto un percorso arbitrale, fatto di alti e bassi, quindi poter ricevere questa designazione di Serie A per me è stato veramente il coronamento di tutti questi anni. Cosa hai provato al momento della designazione? Al momento della designazione ho provato un'emozione fortissima e la prima persona che ho chiamato è stata la mia famiglia che mi ha sempre supportato in tutti i vari momenti della mia carriera. E la tua sezione come ha accolto questa notizia? La mia sezione l'ha accolta con una felicità incredibile, infatti allo stadio di Monza era presente più della metà della sezione, quindi siamo circa una tantina di persone e quasi 40 persone erano allo stadio a fare il tifo per me. Cosa vuoi dire ai giovani ragazzi che ti stanno ascoltando, sia a quelli che hanno intrapreso da poco magari l'attività arbitrale, sia a quelli che potrebbero pensarci? Allora, ai giovani sicuramente dico che è un'esperienza incredibile, è un'esperienza che ti fa crescere personalmente, come nessun'altra cosa a me ha fatto crescere, proprio quando vado in campo mi sento una persona realizzata, quindi dico a questi giovani di crederci sempre, sicuramente ci saranno momenti di defiance, momenti dove tutto non andrà per il verso giusto, ma soltanto con il lavoro, con la dedizione, con la passione si riescono a superare questi momenti che saranno, diciamo, quei momenti che ti faranno arrivare a realizzare i propri sogni. E su cosa ti stai concentrando, insomma, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione 22-23? Sicuramente è fare bene nella mia categoria, che è la mia categoria della Serie B, quindi continuare a fare quello che sono riuscito a fare fino a questi mesi qua, anzi fare ancora meglio, quindi per poter comunque provare a fare altre partite di Serie A. Grazie e in bocca al luce. Grazie.